Il prezzo del caffè, il prezzo di vendita del caffè nei bar in Italia, secondo me questo sia un problema molto grave che è causa di tanti altri problemi del nostro settore, si fa separato differenza di valori, al sud si vende il caffè ancora 60 centesimi, a Roma alcuni si vende 80 centesimi, poi andiamo magari in Francia che è un paese con il quale possiamo affrontarci, e due vendita, due cinquanta, e non ho in questa prima fase di presentazione, per esempio, sentito parlare di questo, c'è una statistica magari di quello che era il prezzo della tazzina anni fa e della tendenza di questo prezzo, che poi ovviamente costringe tutti quanti magari a seguire delle politiche a ribasso, non dare risorse per la formazione di cui abbiamo parlato prima, non dare risorse per mantenere magari un'altra qualità anche nell'esportazione, io poi magari parlo personalmente, perché ho sentito aziende che esportano l'82%, ma non credo che sia un po' la fotografia, la percentuale di riferimento delle torrefazioni italiane, penso che per molte sia ancora il mercato italiano quello principale, quindi io credo che una cosa che potrebbe essere utile fare insieme, forse una delle più importanti, a mio avviso sarebbe quella di far capire che se uno vorrebbe avere un buon caffè, il prezzo della tazzina deve aumentare a tutti i costi, sono stati fatti i servizi, in televisione, sui macchinari, sulle cose, il famoso servizio di report, che penso che avrà a portare un po' tutti quanti, è bene nel male, però non si è parlato della cosa principale, oggi il caffè ancora almeno nel centro-sud è la cosa che costa meno del tubare, secondo me dovrebbe essere così. Dunque, innanzitutto direi che noi non dovremmo trattare questi temi, questi sono temi piuttosto sensibili, per l'antitrust sia assolutamente fuori luogo discutere di prezzi, di quote, di queste cose. Credo che lo spunto di magari fare un aggiornamento su delle statistiche, quello che può essere il prezzo medio, il giro per il modo, o qualche ricerca di questo genere, credo sia possibile, ci consulteremo per i legali, credo che colgo lo spunto perché mi sembra anche una buona idea, però è altrettanto chiaro che da un punto di vista di antitrust noi non possiamo trattare di questi temi, quindi purtroppo credo che sia un po' fuori da quello che possiamo fare. Io compro però il suo tema sull'idea di fare un approfondimento, uno studio, perché mi sembra interessante. Per quanto riguarda quell'82%, l'82% si riferiva a questa è la pazienza che ci ospita, che fa macchie. Credo che per quanto riguarda i tre fattori è assolutamente corretta la sua interpretazione, perché di fatto almeno il volume è il 30,8%, più o meno, perché intanto la materia è prima quella e poi è chiaro che ci sarà qualcuno che esporterà molto di più nel migliore, ma almeno. Sono stato prendendo, cioè se l'antitrusta ci sia poter andare a fare un premio, un pubblico di prezzi, ma il signor era un pubblico di prezzi, secondo me, così come è stato detto che c'è una differenza nel valore del canto che viene esportato in tutto quanto, se si può parlare di quello, penso che si possa anche parlare delle tendenze di prezzi, parlare, fare comunicazione, non credo che vada contro questo discorso. Poi io ho una problematica che poi anche quando parlo con colleghi d'orefattori, non parlavo anche con colleghi d'orefattori stamattina, in una fase, diciamo, ancora... mentre si parlava così del piede, ma comunque la prima cosa si diceva, ma non è che si alzano i studenzi a Roma? No, no. Scusa, intanto il problema della tazzina del caffè non è un problema dei dorefattori, della confesi argente. Ma ci sono due fattori, bisogna fare sempre dei paragoni omogenei. In Italia il prezzo della tazzina del caffè sarà sempre...